Oggi a Monteverde, nello storico mercato di Piazza San Giovanni di Dio. Vogliamo girare per il mercato, vogliamo ascoltare i cittadini, i commercianti, vogliamo vivere il territorio. Per questo gireremo con i rappresentanti dei vari partiti a sostegno della mia candidatura presidente di questo municipio. Noi ci siamo, votate Massaro presidente.